buongiorno buonasera a seconda ragazzi noi non ci si vede non ci si sente da circa tre settimane ahimè questo non è il mio mestiere qualcosa che faccio rilassandomi purtroppo a volte non è possibile per questioni logistiche di lavoro altri impegni e quindi mi tocca staccare un pochetto bene io però faccio come i bimbi minchia oggi cosa faccio vi chiedo di distruggere devastare smantellare il bottone del like quindi mettete tutti like 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 iscrivetevi al canale insomma tutte le solite menate bla bla le conoscete vi metto anche il mio account instagram qua in sovra impressioni non pubblico tanti contenuti però è un modo diretto per poter essere in contatto con voi quindi iscrivetemi anche in privato se avete delle domande insomma io rispondo più o meno tutti certo non in tempi particolarmente celeri ragazzi l'orologio più utilizzato nel 2022 un anno fa era una piacevolissima mattinata nevosa facendo una passeggiata mi venne in mente di fare al volo un vlog con lo smartphone indicando quello che fu appunto nel 2021 l'orologio più utilizzato da me ho deciso di riproporlo anche nel 2022 una premessa doverosa faccio un esempio se voi avete in collezione 20 orologi e pensate di averne molti bene per me non sono molti sono pochi io poi ho la fortuna di provare anche magari orologi che non ho recensito e che non recensirò mai comunque io posso insomma durante l'anno provo tanti orologi quindi l'ordine per dirvi l'orologio più utilizzato dell'anno non è 300 giorni all'anno nel caso specifico facendo un calcolo spannometrico direi tra le 50 e le 60 volte in un anno quello che ho utilizzato di più ed aggiungo mi capita e non così di rado di indossare più orologi durante la giornata chiusa la lunga e doverosa parentesi nel 2021 fu un micro brand l'axios flagship perché perché di fatto era ed è un orologio molto versatile dalle dimensioni giuste è un sub con ispirazione e di ispirazione vintage con dei bei colori una bellissima linea sa essere elegante sa essere sportivo sa essere versatile quindi un po da tutti i giorni e mi colpì e vinse lui questo diciamo lo scettro del più da me utilizzato durante il 2021 per il 2022 chiaramente si ribadisce il concetto versatilità questa è la parola chiave ma non più con un micro brand ma con un macro brand ragazzi una maison importantissima che insieme ad altre chiaramente ha fatto la storia dell'orologeria ragazzi so che lo apprezzate in molti e moltissimo questo brand vabbè faccio che dirvelo trattasi anzi vi premetto l'ho recensito più o meno un mese e mezzo fa anche se l'ho acquistato circa un anno fa vi metterò qua sopra poi dopo la scheda in fondo il link diretto alla recensione bla bla trattasi di ebbene sì un seiko seiko spb 147 j1 questo è l'orologio da me più utilizzato durante il 2022 a costo di essere ridondante ribadisco versatilità parola chiave è un orologio che è un diver quindi lo si può portare tranquillamente anche in immersione un orologio quindi sportivo un orologio casual un orologio da aperitivo un orologio che in questa versione cromatica sa essere anche elegante quindi per una cena addirittura con un abito quindi una cena più formale io trovo che sia davvero bellissimo inoltre l'orologio e da subito ho avuto una sensazione un feel con questo prodotto incredibile che mi ha spinto a indossarlo il più possibile e ripeto tra le 50 e le 60 volte ragazzi il video è finito una videoclip piuttosto un vlog piuttosto veloce cosa importante ci tengo allora mettete in descrizione chi vuole e chi ha più di un orologio indicare il numero di orologi che ha in collezione ne tengo 30 quello più utilizzato quest'anno è stato e mettete la referenza ragazzi spero che vi sia piaciuto il video alla prossima ciao ciao